Come produrre per le persone che vivono qua alimenti sani, genuini, con l'impatto di inquinamento il più soft possibile? Per me questo è essere regionale, con zero importazioni. Io comunque un po' di fieno devo acquistarlo perché ad esempio ci sono diversi anni a questa parte che c'è la siccità, però compro locale.